Su GIMP, come in altri programmi di fotoritocco, quello della selezione è un capitolo fondamentale e ad esso sono dedicati molti comandi è possibile raggruppare gli strumenti di selezione sotto tre categorie generali le selezioni geometriche, le selezioni cromatiche o per colore e le selezioni che potremmo definire pittoriche, ovvero quelle che si effettuano attraverso l'uso delle maschere in questo video tratteremo solo i primi due casi, lasciando il capitolo delle maschere ad un video dedicato Partiamo quindi dalla selezione geometrica, a cui sono dedicati i primi tre strumenti della toolbox di GIMP Selezione rettangolare Questa consente di tracciare appunto un'area rettangolare trascinando il tasto sinistro del mouse da un punto all'altro dell'area di lavoro La stessa cosa, con forma ellittica, avverrà utilizzando invece lo strumento ellisse Lo strumento lazzo invece consente di tracciare una forma libera, trascinando il tasto sinistro del mouse oppure, facendo dei clic istantanei, costruire una poligonale Gli strumenti di selezione per colore sono quelli che seguono La bacchetta magica è uno strumento che consente di creare una selezione in funzione del colore su cui si è fatto clic E' possibile definire una soglia nella parte dedicata alle opzioni dello strumento che permette di definire quanto estesa deve essere la selezione rispetto al colore cliccato La selezione attraverso la bacchetta magica si estenderà comunque solo ai pixel contigui Se invece utilizziamo lo strumento successivo, ovvero la selezione per colore questo stesso criterio sarà esteso all'intera immagine e quindi facendo un clic su un colore, su un pixel colorato tutti i pixel di colore simile, sempre rientrante all'interno della soglia definita e verranno selezionati Per deselezionare è possibile utilizzare la combinazione di tasti CTRL-SHIFT-A I successivi strumenti, presenti nella toolbox, sono dedicati alla scontornatura di un oggetto Lo strumento forbici è una via di mezzo tra il lazzo e la bacchetta magica Utilizzando questo strumento sarà possibile cliccare lungo il contorno dell'oggetto e lasciare che il programma individui l'effettivo bordo a partire dalla differenza di colore che l'oggetto ha rispetto allo sfondo Una volta verificato il contorno e fatti i dovuti aggiustamenti sarà possibile cliccare sul tasto invio per rendere effettiva la selezione Lo strumento successivo, lo strumento di selezione di primo piano permette di effettuare questa stessa operazione in più fasi Per prima cosa il programma richiede di individuare un'area in maniera grossolana che comprenda l'oggetto da scontornare Una volta individuato, sarà possibile tracciare, come se avessimo in mano un pennello le parti che vogliamo mantenere in primo piano Eventualmente sarà possibile rimuovere delle parti non desiderate ovvero appartenenti allo sfondo cliccando sull'opzione opportuna nella barra delle opzioni dello strumento Una volta completata l'operazione, cliccando sul tasto invio verrà visualizzata la selezione Con qualsiasi strumento di selezione è possibile combinare le selezioni ovvero creare delle nuove selezioni attraverso delle operazioni booleane In particolare, utilizzando il tasto shift, sarà possibile aggiungere selezione Col tasto ctrl, si potrà sottrarre area da quella selezionata Utilizzando il tasto ctrl e shift insieme potremo creare l'intersezione tra la nuova selezione e la selezione esistente L'utilizzo invece del tasto alt consente lo spostamento della selezione In particolare, sarà possibile spostare la semplice selezione oppure spostare il contenuto di questa Per spostare il contenuto, sarà necessario utilizzare insieme al tasto alt anche il tasto ctrl o shift La differenza è che nel primo caso il contenuto dell'area selezionata verrà spostato e contemporaneamente verrà rimosso dal layer esistente Nel secondo caso, quindi cliccando sul tasto alt e shift verrà creata una copia del contenuto selezionato In entrambi i casi, il programma creerà un layer fluttuante ovvero un layer temporaneo che dovrà essere ancorato e per farlo si potrà o utilizzare l'icona corrispondente nella finestra dei layer che fonderà questo oggetto così modificato con il layer esistente o cliccare sul tasto nuovo layer che creerà quindi un layer indipendente Per concludere, è utile sapere che esiste un menu dedicato alla selezione appunto il menu select dove troviamo numerosi comandi utili alla definizione della selezione Ad esempio, possiamo vedere che utilizzando la combinazione CTRL A sarà possibile selezionare l'intera immagine mentre utilizzando la combinazione CTRL I sarà possibile invertire la selezione Sempre dallo stesso menu poi avremo una serie di comandi come il comando Feeder che consente di ammorbidire il contorno della selezione e quindi rendere sfocato il bordo della selezione e ancora i comandi SHRINK e GROW che permettono di estendere o di contrarre la selezione definita una dimensione, una distanza o per concludere il comando PORDER che consente di creare una fascia di selezione a partire dalla selezione esistente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.